Si avvicina il giorno dell'apertura del nuovo centro commerciale di Ano nel comune di Atena a Lucana. Unico nel Vallo di Diano, il centro commerciale ha una superficie di circa 11.000 metri quadri, 1.500 posti auto e 24 punti vendita, capace di ospitare oltre 110.000 persone. Frutto dell'investimento coraggioso di alcuni imprenditori del territorio che hanno creduto in questo progetto, il centro commerciale di Ano diventerà presso una realtà economica importante della provincia di Salerno. Giorno 14 alle 17.30 ci dovrà essere l'inaugurazione di questa struttura finalmente, una struttura di grandi dimensioni, una struttura per la prima volta anche nel Vallo di Diano che sicuramente ci porterà non soltanto occupazione ma anche un indotto e un richiamo per popolazioni di altri paesi. Come amministrazione abbiamo sostenuto il progetto che ci fu proposto da questi imprenditori del Vallo di Diano e questa è la dimostrazione che al sud della provincia nostra, quando si vuole fare impresa, quando c'è imprenditore di qualità e quando c'è volontà amministrativa, le cose si possono fare. Questo è l'inizio di questa parte del centro che poi sarà completato con almeno altre 30 negozi in giro di 2-3 mesi e quindi oggi diventa in realtà un grande progetto che è partito alcuni anni fa.